Ciao ragazze, oggi voglio parlarvi dei nuovi rossetti Collistar Art Design. Non so se li conoscete già, sono usciti proprio... è una nevità... Ciao ragazze, oggi parliamo dei nuovi rossetti Collistar della linea Art Design. Sono proprio nuovissimi, sono usciti questa primavera e sono in promozione lancio con il rossetto e la matita labbra in regalo, in coordinato. E se mi seguite su Facebook o su Instagram avrete sicuramente visto che li sto usando un sacco, io ho 5 colorazioni sulle 18 disponibili e mi piacciono tantissimo. Quindi so che aspettavate questo video da un po' perché insomma ve l'ho anticipato con varie foto ed eccomi qui. Allora, per quanto riguarda la particolarità di questi rossetti, oltre a questi colori fantastici e questo packaging gioiello, è proprio il fatto che sono dei rossetti idratanti. Davvero, sulle labbra rimangono molto molto morbidi, non seccano assolutamente, anzi anche dopo diverse ore le labbra sono molto molto idratate. Poi, seconda cosa, durano davvero tantissime ore e questo secondo me soprattutto grazie all'applicazione della matita. Io ad esempio, come vedrete poi dove vi faccio vedere l'applicazione, faccio il contorno e poi la applico un po' anche all'interno, visto che il colore è uguale al rossetto praticamente. E questo mi permette di avere una durata estremamente più alta, perché essendoci la matita sotto il colore si fissa molto più a lungo. Poi, vi dirò di più, a me piacciono anche le matite da sole perché hanno dei colori così belli. Poi a me piacciono anche tanto i colori opachi sulle labbra, quindi delle volte uso solo proprio la matita, se voglio l'opaco. Invece, il rossetto ha un finish piuttosto brillante, adesso l'ho appena messo, vedete che è bello lucido, poi con il passare delle ore un po' si opacizza. E comunque, davvero belli, adesso passiamo all'applicazione e vi faccio vedere i colori che ho io. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.